Eccoci qua, ha visto l'ho portata puntuale, preciso però, il bagaglino, ah si, veloce, e questo se no se lo tocchi lei, vero che sei questa roba, tenga, tenga, quant'è, quant'è, eh? Allora, fatto bene 48 euro, eh, vabbè, carta di credito? Sì, di carta, o euro di carta? Vabbè, mangiare la carta di credito, allora, accanto a Firenze 47, scrivi a C, avanti Cristo, vabbè, vado a prendere i soldi al banco, ma... Allora, Marcella Bella, qui non ci si capisce, io voglio i soldi, ma non ti fidi, non ti fidi, ti do questo Rolex come pegno, io adesso, bello, poi sarei io l'antico, questo è un giochino che lo faceva, il mio babbo e il mio nonno, non ci cascava nemmeno, mi dia i soldi, non ce l'ha i soldi, allora guardi, vado a prendere i soldi là, allora, mi faccia vedere questo braccialetto, questo non posso, no, questo mi piace, no, questo no, perché questo è un ricordo della prima e l'ultima comunione, e io ti gonfio, e io tutto, ora va bene, anche perché se mi gonfio mi entra più, corsa pagata, dall'altro mi piace, arrivederci, e il resto? Il resto mancia, ma scusi, ma... c'è cascano tutti, oh!